Ciao a tutti, vediamo in questo video le sei frasi del narcisista per farti tornare. In questo video voglio spiegarti quali sono le sei frasi che utilizza un narcisista per farti tornare. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari dal vivo e abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema, le sei frasi del narcisista per farti tornare. Tieni presente che il narcisista ovviamente si allontana, si avvicina, utilizza tutte le strategie possibili e immaginabili per farti tornare, tutte le strategie possibili e immaginabili per cercare di coinvolgerti. Questo è il modo di fare che i narcisisti utilizzano per poter ottenere, diciamo, dei risultati, per poterti in qualche modo, tra virgolette, far coinvolgerti sempre di più. Perché è evidente che più ti coinvolgono, più tu sarai, diciamo, bloccata, sarai in una situazione di impasse, più accetterai le loro condizioni, più accetterai il fatto che loro possono in qualche modo ottenere dei risultati importanti su di te. Quindi questo è un qualcosa in cui devi stare molto attenta, diciamo, per quanto riguarda i narcisisti. Ma veniamo alle frasi che utilizzano i narcisisti normalmente per farti tornare, per comunque in qualche modo riuscire a governare di fatto la tua vita. Allora, la prima frase che utilizzano i narcisisti è molto interessante perché è una frase eclatante, soprattutto i narcisisti stronici utilizzano una frase del tipo andiamo, facciamo terapia di coppia, io ci tengo a te, dobbiamo fare terapia di coppia. Poi magari una volta che tu accetti che ritornano, glissano e non la vogliono fare. Oppure, ancora peggio, essendo molto abili, fanno terapia, vanno, ma il consulente, il terapista o chi per esso, cercano di depistarlo, cercano di apparire loro come la persona giusta, la persona migliore e far apparire te come, diciamo, quella problematica. Insomma, quindi nell'ottica del gaslighting, nel farti apparire sempre di fatto come la persona sbagliata. Questa è una strategia che i narcisisti utilizzano veramente molto frequentemente. Un'altra frase che utilizzano spesso i narcisisti, quando ad esempio hanno fatto un tradimento e vogliono tornare dopo un tradimento, è una frase del tipo Ti giuro che tra noi non c'è stato amore, cercavo una soluzione alla nostra relazione. Guarda, l'ho fatto perché tu non hai investito abbastanza in noi, oppure l'ho fatto perché volevo attirare la tua attenzione, perché io tengo tantissimo a te. Frasi di questo genere con le quali cercano di giustificare qualcosa che di fatto è ingiustificabile. Insomma, ecco, questa è una strategia che i narcisisti utilizzano veramente molto spesso e che gli consente di ottenere dei risultati, di fatto ottenere dei risultati perché in questo modo riescono ad avere il controllo della situazione e riescono a gestire la situazione come meglio credono. Questa è una frase molto molto utilizzata dai narcisisti. Terzo tipo di frase che utilizzano, diciamo, quando vogliono mantenere i piedi in due scapi, cioè rientrare con te ma mantenere i piedi con un'altra, e se diventassimo amici, so che è complicato ma potremmo fare amicizia. Oppure possono dirti, io direi voglio restare amico tuo perché sei una persona fantastica, non ti voglio comunque perdere. Qui ti danno la speranza, ti danno l'illusione di un ritorno, ma in realtà il loro obiettivo è tenere i piedi tranquillamente in due scarpe senza darti possibilità di scelta, diciamo. Questa è un'altra tattica utilizzata molto molto frequentemente dai narcisisti per ottenere i risultati che vogliono. E poi un'altra frase che possono utilizzare in due modalità, una l'opposto dell'altro è quando sanno che non sei tanto coinvolta, magari ti dicono o comunque che ti stai distaccando, so che è la persona giusta per me, dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto, dobbiamo salvare la nostra relazione, eccetera, eccetera. Oppure potrebbero dire anche il contrario, so che non eri la persona giusta per me, quando sanno che tu sei coinvolta al 90% o al 100% o al 101%, questa frase la utilizzano per farti cambiare, una frase manipolativa che usano proprio con lo scopo di farti cambiare, quindi un'altra forma di manipolazione, se vogliamo. E poi un'altra, la quinta frase, io amo solo te. Questa è per, diciamo, giustificare magari non un tradimento, ma il fatto che di fatto poi ci sarà stato un tradimento, ma utilizzano questa frase per dirti, guarda che io sono fedele, io non ti ho mai tradito, sono sempre vicino a te. Ecco, tutte frasi, volte, diciamo, a farti accettare tutte le mancanze che avranno avuto e che hanno e che continueranno ad avere, tra l'altro, quindi non ti illudere che non le avranno più. E poi la sesta frase è quando proprio si giocano le carte per darti quello che tu desideri più, o per meglio dire, per dirti che ti daranno ciò che tu desideri più, ma poi di fatto non ti daranno una mazza. E sono frasi del tipo dovremmo sposarci, dovremmo andare a convivere, mi trasferirò da te, dovremmo avere un figlio. Ecco, tutte frasi che, diciamo, cercano di illuderti e ovviamente una persona, se è molto bisognosa, beh, spesso arriva tranquillamente ad illudersi perché ovviamente l'illusione dura a morire, insomma. Ecco, queste, se noti che una persona utilizza queste sei frasi, o simili, diciamo, per tornare, beh, sappi che ha a che fare con un narcisista, un narcisista che sta cercando di di farti tornare a vivere, insomma. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi sulla pagina di Instagram, Massimo Terramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento, abbonamento base, con lezioni mirate, abbonamento top, con lezioni mirate e videoregistrazioni, seminario del vivo, abbonamento master consulting, con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti. Ciao a tutti.